Siamo qui a Ecoforum 2019 con Marcello Somma, direttore ricerca e sviluppo di FaterSmart. Quali prospettive si aprono per il vostro settore con la firma del decreto End of Waste per i pannolini? Beh, ottime prospettive, il settore sta dimostrando una forte domanda e interesse da parte degli operatori sia nazionali che internazionali. Abbiamo già annunciato che ci sarà un primo impianto all'estero in Olanda, in quel di Amsterdam, altri investimenti sia in Europa che al di fuori dell'Europa e abbiamo una lunga lista di lettere e di intenti per i clienti che attendono di poter dare via agli investimenti in Italia.